Arrivederci da Miglior Cane, Miglior Gatto. Alimenti per cani e gatti. Arrivederci! 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 Nonna, ti porto in America! Ma quale America, Cristoforo? Ma dicono che lì ci sono cose mai viste! Anche qui, tesoro, i tagliolini di quattro salti in padella sanno proprio come li faccio io. Pasta fresca all'uovo, col suo bel soffrittino, un goccio di brandy, gamberi e zucchine. Gamberi? E come sono? Così! Buoni! E camminano indietro! 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 Ma tornano? Quattro salti in padella Findus. Quelli buoni, per davvero. Buoni questi tortellini! E chi c'hanno in cucina, Giovanni Rana? Non in cucina! Vedi che c'è? Sa che devo fargli i complimenti? Lei ha un gran talento. Devo fare anch'io i complimenti. Ah, anche lei è passata a tre. Eh sì, anche per il lavoro. Così posso essere in azienda addirittura quando non ci sono. 19 euro al mese per chiamare e videochiamare a 0 centesimi al minuto. Nasce Bsmart, la nuova offerta di tre per le aziende. Ma lei sa che è davvero simpatico. E lei lo sa che è proprio una pasta d'uovo. Tre Business, l'OMTS per le aziende. Fratelli! Fratelli! È sparita la burata in Bernizzi. Quella con la confezione richiudibile? Sì. Quella che è come una mozzarella ma con un morbido cuore di crema che... Che si scioglie in bocca. Esatto. E adesso? Digiuno, fratelli. Digiuno. È un prodotto in Bernizzi. E... Oh! Un super pranzo o un super pieno? Paga con Visa e chiama subito l'800 111 666 per sapere se hai vinto. Piazza Fontana Buonasera dal Tg2. Dopo 36 anni la strage di Piazza Fontana resta senza colpevoli. in serata infatti la corte